13.000 imprese associate in Campania, 100.000 a livello nazionale sono questi i numeri della CLAI, Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che oggi ha aperto un nuovo sportello a Giuliano. Da questo momento la federazione è dunque presente con un nuovo punto di riferimento nella terza città della Campania per commercianti ed imprenditori. La presenza sul territorio è stata fortemente voluta da Tecla Maiacano, da oggi presidente della sede territoriale di Giuliano. Usciamo da un periodo molto particolare che è quello della pandemia, c'è una crisi economica e sociale a largo raggio e quindi la confederazione CLAI scende sul territorio per essere riferimento per le piccole e medie imprese, per i commercianti, per gli artigiani, sapendo che si crea sicuramente in primis un rapporto di sinergia con l'amministrazione. Tra dieci giorni è anche una sede front office in via Rione De Gasperi numero 6, quindi nella famosa piazza annunziata. Noi siamo lì, ma da oggi, da ieri e non da oggi, stiamo già lavorando sul territorio. Alla conferenza stampa di presentazione della nascita del neosportello, anche i vertici provinciali dell'associazione con Achille Capone ed il vicepresidente nazionale Alessandro Limatola. Noi pensiamo ad un modello ibrido delle associazioni di categoria per metà tecnologico e per metà attraverso il contatto fisico e la presenza fisica anche a Giuliano vuole essere espressione proprio di questa finalità. All'incontro era presente anche il sindaco di Giuliano Nicola Pirozzi che plaude all'iniziativa e annuncia la volontà dell'amministrazione di istituire dal 2023 una ZTL in centro. Sarà una ZTL così come prevede le moderne città, quindi non con le sbarre ma sarà con i varchi attivi quindi sarà una cosa che nel 2023 vedrà la nascita, in questo caso faremo un confronto con i commercianti perché è insieme a loro che dobbiamo organizzare una ZTL all'altezza della città. A Giuliano qualcuno si chiederà che cos'è la CLAI è un raccoglio.